Rocco Morabito, 56 anni, uno dei più importanti trafficanti internazionali di droga al mondo, è atterrato martedì mattina all'aeroporto di Roma a Ciampino e stradato dal Brasile. Inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità facenti parte del programma speciale di ricerca del Ministero dell'Interno, secondo solo a Matteo Messina Denaro, Morabito è stato uno dei più importanti broker dell'Andrangheta. Gli origini calabresi era stato mandato dal suo clan in Nord Italia, dove venne soprannominato il re della cocaina di Milano, grazie al suo ruolo di coordinamento dei traffici di stupefacenti tra Europa e Sud America. Latitante per 23 anni, era stato arrestato nel 2017 in Uruguay, dove però riuscì ad evadere dal carcere di Montevideo, prima della sua estradizione. Dopo una latitanza di altri due anni, era stato nuovamente catturato a maggio del 2021 a Giopessoa in Brasile, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura Generale di Reggio Calabria. Morabito non ha mai abbandonato il suo ruolo nell'arco traffico mondiale e ha aiutato l'Andrangheta ad incassare miliardi di euro con la cocaina sudamericana, soldi successivamente riciclati in attività imprenditoriali ed acquisti immobiliari. La sua estradizione era dunque di massima priorità per Giovanni Bombardieri, procuratore di Reggio Calabria. Il Superboss dovrà scontare una pena definitiva di 30 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti. Il Brasile di Bolsonaro aveva già concesso l'estradizione di un altro criminale italiano, Cesare Battisti, protetto dal suo predecessore Lula, che si era opposto al rimpatrio concedendogli lo status di rifugiato politico. Grazie a tutti.